Come fate a procurarvelo per rivenderla così poco? La contraffazione copre un mercato di circa 7 miliardi di euro. Quanti fatti tuoi, hai capito? La roba che vendiamo da dove viene? Che te ne frega te, qualcuno si ha limitato? Sei soltanto un biglianco esattamente come loro! Non so solo che posso vestirmi bene senza spendere più soldi che i miei mi danno. Puoi mettere?